Una perfetta quanto cinica vispesero e spugna il polisportivo di Civitanova giudicandosi il derby ai danni di una Civitanovese oggi irriconoscibile e sempre più invischiata nella zona calda della classifica. Sconfitta pesante per la formazione rosso-blu, costretta ancora una volta a subire tre reti in 38 minuti come era già capitato in precedenza contro l'Agnonese ed alzare bandiera bianca anzitempo. Vince invece con pieno merito una visse tatticamente perfetta che ha confermato pure a Civitanova tutto il suo valore conquistando tre punti molto importanti che la proiettano in zona playoff. Formazione al via con defezioni pesanti da ampole parti nella Civitanovese ancora una volta out e biso per infortunio assenza sempre di rilievo mentre sono squalificati Torta e ancora Covelli. Cornacchini per lui un derby vero visto che è di Fano disegna inizialmente un 4-4-2 con la vista in suggerimento di Ridolfi e Galli in avanti. Stesso copione tattico per la visse con Maci, Orfano per via delle squalifiche di Boinega e Santini a dirigere un derby storico il signore Bicchisecchi di Livorno che ha diretto davanti a 400 spettatori fra cui una cinquantina giunti da Pesaro. Ma vediamo dalle immagini questo Civitanovese vis Pesaro. Fase di stallo nei primi 20 minuti con le due squadre bloccate e mai pericolose. La prima fiammata è al ventunesimo quando Ridolfi si gira al limite ma conclude debolmente fra le mani di Fogliera. Invece fuori d'un soffio due minuti più tardi una girata aerea sempre dello stesso Ridolfi che servito da Moretti al ventitresimo sfiorava il palo a Fogliera battuto. Ma nella prima offensiva seria al venticinquesimo la vis Pesaro passa. Bel lavoro di Cremona sulla sinistra, crosse al centro teso deviato da Tupero. Sulla ribattuta il più lesto di tutti era Rossini che metteva nel sacco per il vantaggio Vissino. Risposta timida, rosso-blu al trentaquattresimo con Galli che servito da Ridolfi in modo aereo sotto misura chiamava Fogliera la deviazione in corner. Al trentasesimo la visse trovava il raddoppio. In decisione della difesa di casa Di Carlo arpionava in area un pallone in modo poco chiaro. La palla rimaneva in area di rigore. Arrivava Rossini ancora una volta il più lesto di tutto a firmare il raddoppio. Scatenata la visse che al trentottesimo chiudeva praticamente la gara al cospetto di una Civitanovesse tramortita e colpita al cuore. E' Cremona servito da Ridolfi di testa a fare trisse nonostante il disperato tentativo di salvataggio sulla riga di porta di Sensi. La palla entra per il 3-0 bianco-rosso. Si va nella ripresa Cornacchini nel disperato tentativo di riaprire una gara che sembrava compromessa. Inserisce Nardone per Digno e i rosso-blu sono subito pericolosi dopo appena 30 secondi hanno la palla del 3-1 ma il tiro sotto misura di Gata è deviato in corner da Fogliera molto reattivo nella circostanza. Al 21esimo per la Civitanovesse ci prova Boateng ma la conclusione del color red è facile preda di Fogliera. Al 26esimo piove sul bagnato per il rosso-blu costretti a giocare in 10 i restanti minuti per l'espulsione di Eccani per fallo da ultimo uomo ai danni di Di Carlo lanciato a rete. Gara praticamente conclusa anzi no c'è pure il tempo per vedere il poker di Vicini in pieno recupero. Il 4-0 a conorare una giornata perfetta per la Vispesaro qui a Civitanova.